benvenuti a scientificamente il tg dello spazio e della scienza sonno da astronauta samantha cristoforetti ha portato a termine con successo tre delle sei sessioni dell'esperimento wearable monitoring che ha l'obiettivo di misurare il sonno degli astronauti in micro gravità la qualità delle ore di sonno è infatti determinante per quanto riguarda attenzione e capacità di concentrazione durante la veglia astro samantha ha indossato la maglietta del sistema magic space che contiene dei sensori che rilevano elettrocardiogramma e respiro fanno parte del sistema anche un'unità di monitoraggio per la raccolta dei dati e la misura delle vibrazioni cardiache e un termometro per la misura della temperatura cutanea i risultati dell'esperimento non sono utili solo per controllare il sonno di chi vive a bordo della stazione spaziale internazionale ma possono avere anche delle ripercussioni a terra perché potrebbero portare a delle rilevazioni di telemedicina da ginevra a roma arriva l'acceleratore lhc l'acceleratore lhc che ha permesso di scoprire il bosone di higgs arriva a roma sarà in mostra dal 29 gennaio al 4 febbraio a piazza mignanelli proprio poco lontano da dove in italia è nata la lunga tradizione della fisica delle particelle grazie alle ricerche dei ragazzi di via panisperna furono loro a gettare le basi per la nascita del cern e dell'istituto nazionale di fisica nucleare l'installazione si chiama mit lhc 60 anni di italia al cern ed è curata dall'infn con la collaborazione del comune di roma permette ai visitatori di ammirare la complessità degli apparati sperimentali e di approfondire attraverso un percorso fotografico la storia del celebre laboratorio internazionale che sarà diretto dall'italiana fabiola giannotti il percorso fotografico mette l'accento sull'importante contributo che l'italia grazie all'infn ha fornito per il raggiungimento dei successi del cern tra gli oggetti esposti anche un componente originale del super acceleratore lhc che in primavera riprenderà la sua attività di ricerca kepler e i gemelli di sole e terra la missione kepler della nasa ha scovato una sorta di sistema solare in miniatura al centro c'è kepler 444 una stella vecchia di 11,2 miliardi di anni intorno a cui sembrerebbe che ruotino cinque pianeti di dimensioni diverse grandi più o meno come venere e mercurio la formazione di questo sistema planetario risale ad un periodo antichissimo l'universo all'epoca si era formato soltanto per un quinto questo dato è molto utile perché arricchisce la conoscenza degli astronomi riguardo all'inizio della formazione dei pianeti la scoperta su cui hanno lavorato astrosismiologi e ricercatori dell'università di birmingham è stata pubblicata sull'astrophysical journal contro il mieloma una nuova molecola messa a punto dal cnr si chiama dtp3 ed è una molecola sintetica che agisce sulle cellule tumorali e al contrario di quanto accade con le terapie attuali fanno sapere gli esperti non è tossica per le cellule sane i ricercatori dell'istituto di biostrutture e bioimmagini del cnr di napoli in collaborazione con l'imperial college di londra hanno sviluppato una nuova molecola selettiva contro il mieloma multiplo un tumore del sangue a carico delle plasma cellule ad oggi considerato incurabile lo studio finanziato dal medical research council e dal national institutes of health imperial innovation e progetti firm e prin è stato pubblicato sulla rivista cancer cell l'appuntamento con le notizie finisce qui vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento saturno è uno dei giganti gassosi del sistema solare reso unico da quegli anelli fatti di polvere particelle che lo rendono inconfondibile da più di dieci anni la missione internazionale cassini oggens studia da vicino saturno anche se naturalmente è nata molto prima esiste più o meno da quando esiste l'agenzia spaziale italiana scherza il presidente roberto baddiston e dopo più di vent'anni continua a stupirci con i suoi incredibili dati il nome della missione viene da lontano la sonda deve la sua denominazione all'astronomo gian domenico cassini che nel seicento si dedicò allo studio di saturno e dei suoi anelli oggens invece è il lander che prende il nome dell'astronomo olandese che sempre nel seicento scopre il titano una delle lune del pianeta la missione lanciata nel 1997 è nata dalla collaborazione fra la nasa l'esa e l'asi e rimane uno degli esempi migliori di lavoro congiunto internazionale ma questo dimostra la capacità della collaborazione scientifica internazionale di mettere assieme dei team allo stesso tempo competenti ma capaci anche di portare avanti per molto tempo missioni molto complesse difficili di motivare le agenzie a finanziare queste grandi idee e a raccogliere analizzare i dati che vengono prodotti tra l'altro con tempistiche che superano la vita di opera professionale di un singolo scienziato ma che devono passare il testimone da una generazione all'altra l'italia ha un ruolo importante nella missione su oggens c'è a casi il primo strumento a guida italiana in una missione esa e sulla parte cassini spicca lei la grande antenna che consente a tutti gli altri strumenti di funzionare e mandare a terra i dati che vengono raccolti a più di un miliardo di chilometri da noi l'antenna è parte integrante dello strumento radar realizzato dall'italia insieme al jet propulsion laboratory della nasa e dei sottosistemi di radioscienza l'antenna ha giocato un ruolo fondamentale anche nella sopravvivenza di cassini comportandosi con la sonda come un vero bodyguard l'ha infatti protetta sia quando si è trovata a transitare vicino a venere e le elevatissime temperature rischiavano di deteriorarla sia quando ha dovuto attraversare gli anelli per avvicinarsi alla sua meta è stata essenziale per ripararla dai microimpatti a bordo un altro strumento importante è vince primo spettrometro maturato per una missione di spazio profondo realizzato sotto la guida di angioletta coradini quando la missione è nata si sapeva poco o niente di saturno e ancor meno delle sue lune tra cui spiccano titano e enzelado ma grazie a cassini tante nubi sono state diladate una delle scoperte che avuto più rilievo è quella del propilene su titano titano è un mondo mondo molto interessante quando abbiamo cominciato a progettare cassini non sapevamo praticamente nulla se non che avesse un'atmosfera molto densa e molto fredda e con grosse tacce di metano dopodiché con cassini abbiamo scoperto che il metano c'è in questi laghi che vediamo ai mari che vediamo a nostre spalle sono laghi e mari che sono soprattutto nel polo nord che è questo ma anche l'atmosfera è ricca di questo tipo di idrocarburi e di idrocarburi ben più complessi il fatto di aver trovato idrocarburi ancora più complessi vuol dire che ci stanno abbastanza sorgenti di energia da far sì che le molecole organiche possano combinarsi in maniera diciamo molto elaborata ma cosa sta facendo cassini ora? per osservare l'attività della missione si è riunito per la prima volta nella sede dell'agenzia spaziale italiana e per la quinta volta in italia il cassini project science group un meeting internazionale che tre volte l'anno riunisce lo staff di scienziati che lavorano alla missione per osservare non solo cosa sta facendo intorno a saturno ma anche qual è il suo stato di salute e quali sono i risultati scientifici ottenuti per poi pianificare il futuro e guardare avanti specie nel caso delle missioni spaziali è imperativo cassini è una missione che ha ottenuto di essere prolungata fino al 2017 e già adesso gli scienziati stanno pensando alla sua fine hanno pianificato un vero e proprio tuffo su saturno cassini sarà attentamente pilotata nel suo ultimo passo sarà un momento delicato in cui la priorità è assegnata alla preservazione di un ambiente così lontano in parte ignoto evitando qualsiasi forma di contaminazione è importante che cassini non inquini in nessun modo il pianeta e le lune che è andato a studiare perché sia titano che l'altra luna in celado in cui tra l'altro un team italiano ha dimostrato l'esistenza di un grosso mare di acqua salata in profondità sono potenzialmente mondi che possono supportare forme di vita e mentre huygens che è terrato su titano era sterilizzata perché era fatta apposta per per questo cassini non è stata sterilizzata e se dovesse una volta che finito il propellente continuare a vivere e rimanendo in orbita potrebbe prima o poi cadere su titano o su in celado che sono due lune piuttosto grosse e questo lo vogliamo evitare a tutti i costi quindi con l'ultima parte di carburante residua faremo la manovra finale proprio per evitare di contaminare con potenziali hazard biologici mondi che possono avere un altro tipo di evoluzione grazie a tutti Grazie a tutti.